In Francia un piano migranti disegnato sul controverso modello Italia Albania non funzionerebbe per questioni legali, lo ha dichiarato il neo primo ministro francese Michel Barnier durante il suo incontro col ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. I due politici si sono incontrati nella città francese di Mentone al confine con la Liguria per discutere del controllo delle frontiere e dell'immigrazione illegale. Ma anche in Italia, nonostante le premesse, il piano non ha avuto l'inizio sperato dalla maggioranza. La sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha stabilito che i 16 migranti trasferiti in Albania all'inizio della settimana avevano il diritto di essere riportati indietro. Quattro erano già ritornati in Italia a poche ore dal loro arrivo sulle coste albanesi perché considerati vulnerabili. Gli altri 12 verranno accolti nel centro per richiedenti asilo di Bari dopo un viaggio a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera Italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.